No, non può bastare questa gioia oppure del pareggio al 96esimo, cioè del dire che tra le altre cose Palladino ha un bel culo, ecco, si avrebbe tranquillamente almeno tre o quattro partite finora e poi insomma, bene o male che è girato bene, ecco. Tutti i soliti problemi che avevamo numerato nelle scorse occasioni si ripetono anche in questo caso, cioè niente di nuovo, sia una squadra che non ha idee, che non ha gioco, che non ha ritmo, che non ha intensità, che se non ci sono i calci da fermo non segna, non tira e ditemi voi ragazzi, ditemi voi. Il pareggio oggi, sì, forse non riesco a stare, io ragazzi, non vedo nessun passavanti, adesso Palladino ha 15 giorni, basta lavorare con tanti giocatori, però che lavoro, che trovi delle soluzioni. Ragazzi, qui non ci siamo, non ci siamo neanche lontanamente, neanche lontanamente, questo è il discorso, non ci siamo neanche lontanamente. A parte qualche individualità che sta portando avanti la baracca, ma sono tutti i cani, qualche buon ingresso, i dosi, insomma, vado lì, neanche lontanamente, neanche lontanamente, ma lontanamente. Però ragazzi, non ci siamo, non ci siamo per tantissimi punti di vista, non ci siamo da tanti punti di vista e segue una svolta, ragazzi. Sì, se non trovi idee, se non trovi soluzione, va da pochi parti, va da pochi parti e combiniamo veramente i popoli, però il problema è la difesa alta. Il problema è la difesa alta, abbiamo difensori forti, difensori impermeabili, difensori impeccabili, allora il problema è la difesa alta. Il problema è la difesa alta. Adesso non ci sono più scusi, il peccato è chiuso, il menatore lavori e trovi soluzioni, perché non ci sono più attenuanti. Forza Viola, quasi la di a tutti.